Con la Juventus nel mirino, la Fiorentina è tornata questa mattina ad allenarsi, dopo i due giorni di riposo concessi da Prandelli al termine della partita di sabato sera all'Olimpico. Reduci dalla Tour de Force, imposto da un calendario insensato, i Viola si sono concentrati soprattutto sul lavoro atletico per recuperare la migliore condizione. Osservati speciali, Gilardino e Vargas, gli assenti eccellenti nel match contro la Lazio, entrambi alle prese con fastidi muscolari. Intanto in città l'attesa è già alle stelle per l'anticipo di sabato contro la Vecchia Signora. Già 5.000 biglietti venduti nella prima giornata di botteghini aperti, il che lascia facilmente intendere che contro i bianconeri il Franchi sarà tutto esaurito. Pienone che si rivedrà certamente anche martedì, quando al comunale arriverà il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A questo proposito, la Fiorentina ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica di tre giornate, combinata dall'UEFA a Massimo Gobbi, espulso dalla gara d'andata dal disastroso arbitro Overebo. Averlo disponibile per martedì sarà impossibile, ma la speranza è quella di ricalcare almeno il precedente del settembre scorso, quando la stessa Fiorentina, sempre in Champions, presentò ricorso contro la squalifica di due giornate a Gilardino, espulso a Lione, ottenendo lo sconto di un turno. E in attesa di un risponso in queste ore anche a Adrian Mutu, domani alle 15 il rumeno verrà ascoltato dalla procura antidoping sul caso Sibutramina. Il fenomeno viola dovrà spiegare cosa lo ha spinto a ingerire le pillole dimagranti che lo hanno incastrato. Mai come stavolta, il suo futuro dipenderà più dalla precisione delle parole che dai piedi.